Come ti trovi a muoverti in città e in ambienti che in realtà non sono pensati per accogliere tutte e tutti? Ma allora con un po' di spirito di avventura che non è per forza negato alle persone autistiche a questa cosa mi ha fatto pensare proprio il libro di Alberto Vanalo e poi bisogna fare una costante contabilità, passatemi il termine, una contabilità energetica. Io oggi sono qui al Salone di Torino, so che molte delle mie energie saranno da recuperare ed è questa la ragione per cui spesso le città, anche per le persone autistiche come me che le amano, sono di difficile navigazione. Però si può fare tanto per migliorare, quindi diciamo che un mix di avventura e un mix di contabilità sono un po' le due facce della medaglia dell'essere una persona autistica e vivere in città. Ecco, dal tuo punto di vista cosa si potrebbe fare per migliorare la situazione? Allora, secondo me il tema della sensorialità è ancora molto molto poco dibattuto. Io sento perennemente ad esempio persone che non sono neanche autistiche ma che soffrono la musica a palla nei negozi, i supermercati con le luci sfarfallanti eccetera. Quindi oltre a gestire con maggiore accortezza gli stimoli sensoriali in questi spazi che le persone devono navigare perché se c'è una cosa che fanno tutte le persone è la spesa. Le zone di quiete, delle zone molto diffuse, le quiet rumo, zone di decompressione sensoriale sono molto importanti. Io le metterei in tutte le scuole, in tutti gli uffici, in tutti i luoghi però devono essere studiate con accortezza. A me mi dispiace dire che nella sala della quiete qui al salone di Torino purtroppo ho notato delle criticità importanti. C'erano delle luci molto forti e bisognerebbe mantenere un'illuminazione naturale diciamo, non sfarfallante, non sparata. C'era un ronzio molto forte, credo di un condizionatore d'aria, tra l'altro non trovavo neanche necessario e poi c'era anche una scarsa consapevolezza delle persone che la prendevano come una sala dove andare a parlare ad altissima voce, a rispondere al telefono, anche a correre avanti e indietro. Insomma fare anche cultura su che cosa sia una stanza di quiete sarebbe molto importante affinché la quiete poi ci sia veramente. Ecco grazie perché insomma a noi piace essere un pochino incisivi, un po' pungenti quindi anche se possiamo fare una critica al salone per migliorare il prossimo anno, ben venga. Chiudiamo con un'altra piccola domanda, prima hai definito l'esistenza delle persone autistiche un'esistenza un po' punk, puoi riassumere in poche parole questo concetto? Beh perché sfidiamo il concetto stesso di decoro secondo me, ma in cose perché sono così banali che quando poi io lo dico a delle persone dicono ma perché? Chi è che ti fa dei problemi se all'improvviso hai bisogno di sederti per terra? Ma io ho avuto un fortissimo sovraccarico anni fa quando ero in piazza San Marco a Venezia e ci sono letteralmente delle persone che girano per impedirsi di sedersi per terra, anche dove non dai fastidio a nessuno, lo dico subito perché dico no dai fastidio, cioè è per questo che un'esistenza autistica anche se non lo è nelle tue intenzioni è comunque un'esistenza punk perché tu metti in discussione il fatto che tu possa sedere per terra, che se sei emozionata in qualche modo tu possa sfarfallare con le braccia, che tu possa esprimere le emozioni in un modo che per le altre persone non ha senso, ma non è che non ha senso, si parte da aspettative sociali differenti e bisognerebbe venirsi incontro nelle diversità invece di voler annullare tutto ciò che si discosta dalla norma. Grazie mille, hai espresso benissimo il concetto anche proprio visivamente, quindi grazie ancora. Complimenti per la tua attività, il tuo attivismo, grazie e speriamo di rivederti qui a Torino presto. Grazie a voi. Grazie a voi.